Dal valore della donazione all'attività e l'impegno nel volontariato, dal rafforzare e aumentare il numero dei donatori ai convegni organizzati per promuovere sani stili di vita, puntando il dito contro abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. Sono questi cinque punti alla base del protocollo d'intesa siglato in prefettura tra le Forze dell'Ordine e le Forze Armate e l'Avis Provinciale di Ferrara, per mettere a punto sul territorio iniziative specifiche sul problema della sicurezza urbana, strumenti di prevenzione contro l'uso di stupefacenti e alcol. Ci sono temi e punti di contatto tra il protocollo Avis con questi temi estremamente caldi e attuali, come può intuire chiunque. Soltanto chi ha uno stile di vita corretto e perfetto può donare il sangue ed è importante in questo senso che Avis sviluppi anche su questi terreni un'attività di prevenzione. Sui temi del contrasto all'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol e le nostre forze di polizia fanno già tanto, oggi quell'azione si arricchisce di un tassello in più. Avis e Forze dell'Ordine sono sostanzialmente due istituzioni, definisco così, che operano nel territorio per un obiettivo comune, cioè fare delle persone cittadini che in un qualche modo possono aiutare gli altri nell'attività quotidiana. Da un lato Avis ha un obiettivo importantissimo che è quello di fare prevenzione, dall'altro abbiamo le istituzioni e le Forze dell'Ordine che hanno l'obiettivo di contrastare qualsiasi tipo di abuso di sostanze stupefacenti, eccetera. Ecco, abbiamo messo insieme queste due cose, cerchiamo insieme di realizzare iniziative che nel concreto possono andare verso i giovani per prevenire l'abuso di sostanze che in un qualche modo possono creare dei problemi alla salute dei giovani e dall'altro un abuso che sembra una cosa normale, l'abuso dell'alcol. Abuso dell'alcol vuol dire danno per la persona, vuol dire che la persona non è in salute, vuol dire che quella persona ha qualcosa che non in un qualche modo va bene. Obiettivo del protocollo, siglato da Questura, Carabinieri, Comando Operazione Aeree, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, oltre alla Casa Circondariale di Ferrara, è anche quello di avvicinare altre persone alla cultura del dono del sangue con l'obiettivo di allargare la base di soci e donatori. L'obiettivo è allargare la base soggettiva facendo leva sul patrimonio di agenti delle Forze dell'Ordine che abbiamo sul territorio. Ne abbiamo già tanti, abbiamo tanti poliziotti, tanti carabinieri che in un qualche modo sono già donatori. Abbiamo bisogno di fare proselitismo, di aumentare la nostra base soggettiva in questo senso, perché dobbiamo aumentare il numero dei donatori. Fare squadra consente di ottenere risultati e di dimostrare che lo Stato c'è nella sua interezza, in tutte le sue componenti istituzionali, è nonna. Oggi con un'associazione di volontariato così importante come è appunto Avis, si afferma il principio che la cittadinanza attiva è una componente fondamentale del sistema sicurezza e sicurezza urbana. Grazie a tutti i nostri problemi! Grazie a tutti.